Rosalinda Cannavò ha fatto preoccupare i fan durante una recente diretta su Instagram. Ha confidato ai suoi fedeli sostenitori che sono giorni che sta male a causa di forti dolori alla cervicale e alla schiena. Inizialmente pensava fosse un malore passeggero, invece si è rivelato tutt'altro e per questo motivo ha scelto di rivolgersi ad uno specialista. La stessa Cannavò ha spiegato ai suoi fan. Ragazze sono giorni che sto male con la cervicale, con la schiena. Non chiudo occhio da un po' di giorni infatti si vede dalle mie occhiaie. Purtroppo non so veramente come trovare la soluzione. Oggi andrò da un fisioterapista probabilmente perché devo necessariamente farmi curare questo problema. Ha poi aggiunto. Tra l'altro Anna, la custode dove sta Andrea, mi ha fatto un massaggio con un prodotto straniero che dicono sia molto efficace. Vediamo se fa effetto, ha concluso Rosalinda. L'ex Geffina fa poi sapere ai suoi fan che presto comunicherà se ci saranno dei miglioramenti. Siamo tutti preoccupati per lei ma speriamo risolva presto e che Andrea la supporti in questi giorni. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.